Ciao, sono Ipsy. Mi hanno detto che devo andare a scuola per crescere ed imparare tante cose, ma ci vuole la scuola giusta. Siamo alla scuola secondaria. La scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni segue un tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.36, con alcuni sabati annuali di frequenza obbligatoria. La scuola valorizza le intelligenze multiple nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, di tutti e di ciascuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scuola secondaria di primo grado Luigi Pianciani segue un tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.36, con alcuni sabati annuali di frequenza obbligatoria. La scuola valorizza l'intelligenza multiple nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, di tutti e di ciascuno. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. The water is getting deeper, why don't you climb before my nose? Ok, and the gingerbread man climbed on the fox's nose, and the fox went out. The water is getting deeper, why don't you climb before the fox's nose? An orchestra! Finalmente il mio sogno si avvera! Eccomi, arrivo! All'Istituto Comprensivo Spoleto 2, crescere è tutta un'altra musica! Eccomi, arrivo!